la semplice struttura del reale batte ogni giorno puntuale un chiodo come a dire che il modo del male è vicino allo sciogliersi del nodo nella prossimità discreta della scelta più dell'attesa di un fato onnipotente per dirti quanto sia inadempiente non superare la soia di velta così in colpa ogni tuo tergiversare fra il battere dell'ora e il suo passare ma non ti dice nulla di concreto il reale si ama se è segreto grazie